Sì, è stato incredibile. Non so se l'avete notato, ma secondo me ho cantato meglio alla fine che prima, è vero. Eh, non lo so, perché in quel momento mi ero liberato di qualcosa. Stasera, mentre cantavo, durante la finale proprio, ho sentito un'energia veramente strana. Ho sentito che si muovevano i capelli, lo so, sembra qualcosa folle. Però ho sentito una specie di presenza ed è stato veramente strano cantare questa canzone. Dopo ero completamente libero, ero felice, non lo so, ero pienamente dentro quella cosa lì. Forse non sentivo più la tensione della gara, c'era solo la felicità. Quindi è stato diverso, assolutamente. È stato molto, 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 molto bello. Grazie, grazie a te. Volevo, scusate, volevo ringraziarvi davvero perché, insomma, mi avete dato un premio importantissimo che porta poi... Avete fatto un rumore con me, quindi grazie mille. Avete fatto un rumore meraviglioso. Grazie di cuore. Grazie.